Ciao, nel video di oggi voglio farti vedere un semplicissimo esercizio per risolvere i tuoi problemi a livello cervicale. Questo esercizio è molto efficace e lo uso in studio con i miei pazienti, ovvero posizionando la mia mano sul loro viso da sbagliati, in questo modo, ti chiedo una rotazione contro la resistenza sulla mia mano, quindi così, per 7 secondi e poi gli faccio rilassare. Certo, ovviamente questo esercizio sarebbe meglio non farlo da solo, ma avere qualcuno che ci presta una mano per poterlo fare. Siccome capisco che non tutti possiamo avere qualcuno che ci presti una mano, vediamo come poterlo fare in autonomia. Un piccolo trucco che uso quando sono a casa e ho qualche dolore per eseguire l'esercizio che vi ho fatto vedere prima, è questo, sfrutto una porta, prendo la porta, la apro leggermente, blocco la porta con il piede della mia gamba destra, mi appoggio in questo modo sulla porta e spingo verso destra per 7 secondi, ovviamente la spinta deve essere una rotazione, spingo e lascio, rispingo e lascio, rispingo e lascio. Lo faccio per 3 volte, ovviamente è sempre bene farlo sia a destra che a sinistra. Provate questo esercizio anche a casa e fatemi sapere come va, lasciami un like e suggeriscimi commentando qui sotto come posso aiutarti, ti risponderò nel prossimo video, a presto!